Avere una laurea, parlare due, tre, anche quattro lingue, essere giovani e pieni di entusiasmo. No, non sono le referenze dei nuovi giovani in carriera, ma dei ragazzi, italiani e non, che hanno deciso di mettere le proprie competenze al servizio della città e degli altri. Sono i ragazzi del servizio civile, nel caso del progetto Roma ti accoglie, al servizio del turista. Migliorare l'accoglienza in città. Loro presidieranno le piazze più importanti di Roma turistica, quindi dall'area dei Fori a Fontana dei Trevi, a Piazza Navona, a Piazza di Spagna, per andare incontro al turista. Non dovrà essere lui a cercare un punto di informazione, ma saranno loro a cercare il turista, a porgergli il benvenuto e a rendersi disponibili a trasferire il calore umano e climatico della nostra città, a far sentire tutti a casa. Ma diciamo che c'è un occhio un po' più attento anche sul tema delle esigenze speciali. Vogliamo che i ragazzi vadano in conto in particolare a chi ha bisogno magari di un aiuto in più, perché gli manca uno strumento linguistico con cui dialogare, perché magari ha un carrozzino di un bambino piccolo e la città è più difficile da essere affrontata, perché magari vive su una sedia a rotelle. Cioè rendere la vita di tutti coloro che hanno scelto Roma per il proprio viaggio più accessibile, più accogliente e più calda. Il progetto si avvale anche della collaborazione di altre realtà, come l'associazione Arvuc. Il volontario dell'Arvuc assisterà i ragazzi all'interno delle piazze e delle strade dove loro esercitano la loro esperienza. Dopo tanti anni che abbiamo trascorso sulla strada a mettere ordine ai comportamenti dei cittadini, adesso invece accogliamo questi ragazzi e seguiamo quello che è il loro vivere civile all'interno di un contesto turistico. Se fino ad oggi si è creduto che Roma fosse una bella donna che pensa di non doversi sistemare per apparire bene, bisogna ricordarsi che anche la bellezza sfiorisce, senza mani amorevoli a curarla.